breda di piave un paesaggio collocato sulla fascia delle risorgive tra l'alta e la bassa pianura questo fenomeno permette all'acqua di risalire in superficie ben cinque sono i fiumi di risorgiva che solcano il nostro territorio acqua cristallina che porta fecondità e benessere alle nostre terre territorio breda di piave collocato tra il piave e il sele un territorio che permette di vivere esperienze significative al contatto con la natura grazie a tutti